un minuto compadre pio dai luoghi del convento del santuario di santa maria delle grazie siamo nel coro dove i frati ogni giorno vengono qui a pregare i frati cappuccini e pregano per tutte le intenzioni che i tanti pellegrini inviano qui al santuario proprio custodendo quella che è l'eredità di padre pio da pietrilcina e proprio dei confratelli cappuccini in un luogo di preghiera vogliamo raccontarvi un particolare episodio ce lo racconta proprio padre costantino capobianco un frate che anch'io ebbe l'opportunità di conoscere ma ero un bambino quando mio papà mi portava al convento dei frati minori cappuccini di sant'anna e c'era questo frate con la barba bianca lunga poi veni a sapere che scrisse un libro detti aneddoti di padre pio e l'ho lessi ed è un libro che racconta tanti piccoli fatti fatterelli anche in ordine a quella che era la spiritualità francescana infatti padre costantino racconta di un episodio di un suo confratello padre vittorio da canosa quel giorno fra vittorio da canosa che era un amante degli animali aveva visto un cardellino svolazzare nell'orto era entusiasta voleva quasi acciuffarlo ma non riuscì per ecco portarlo nella sua stanza per metterlo in una gabbia per tenerlo con secco per far compagnia non riuscì a beccarlo ecco questo è il termine giusto anche perché il cardellino si era nascosto in un luogo particolare dell'orto del convento dove purtroppo doveva abbandonare quel posto quella mattina perché venne richiamato dalla campanella per la preghiera doveva andare a recitare la preghiera con tutti gli altri confratelli in coro quindi parliamo del coro cosiddetto delle stimmate non di questo coro e padre vittore durante la preghiera non faceva altro che pensare a questo cardellino ecco adesso quando tornerò giù devo recuperare subito il cardellino devo pensare ad una gabbia ma come farò per non farmi vedere dagli altri ma forse ho pensato bene di andare a mettere questa gabbia su nella soffitta così nessuno mi scopre posso tenere il cardellino lì gli darò da mangiare recupero il mangime farò di tutto per anzi 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 penso anche un'altra cosa scrive padre costantino in questo bellissimo episodio farò anche un'altra cosa proprio quando farò la classica passeggiata con padre pio per la clausura perché sicuramente padre pio usava fare questa passeggiata su e giù per tutto il corridoio della clausura con i suoi confratelli in quel momento quando tutti saranno accanto a lui io andrò subito nell'orto recupero il cardellino lo porto su è il momento esatto questo tutto durante il durante la preghiera nel coro ma qualcosa andò storto perché finita la preghiera padre pio non fece la classica passeggiata quel giorno con tutti i confratelli anzi nel momento in cui si stava avvicinando padre vittore a padre pio per fare la passeggiata padre pio gli disse no oggi non la faccio la passeggiata padre vittore è inutile che tu in coro hai cominciato a pensare a quel cardellino come lo dovevi sistemare dove lo dovevi prendere quale tipo di gabbia utilizzare ma ti rendi conto neanche un ave maria hai detto soltanto per pensare a quel cardellino beh padre costantino capobianco nel raccogliere la sua testimonianza descrive questa immagine di padre vittore che prende questo serio richiamo da padre pio e lui dice a padre costantino che racconta la sua testimonianza in quel momento ho scoperto quanto era grande padre pio perché è riuscito a comprendere i miei pensieri a letto nella mia mente e in quel momento era come se un uragano fosse caduto sulla mia testa